ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui per fare una storia con le barbie che si intitola le barbie ritornano in casa loro hanno sistemato devono solo sistemare la roba esterna quindi i gatti i cani e i cresciti quindi poi devono scusate sistemare anche la loro casa cioè che tipo devono metterla a posto tutta quanta in cima a fondo da cima a fondo quindi solo la roba esterna ragazzi facciamo entrare le barbie in casa ho voglia di sistemare la roba esterna ora la vado a sistemare ora la vado a sistemare tutta ragazzi ho sistemato tutta la roba esterna ora chi sistema all'interno della casa io sistemo ragazzi vi faccio vedere come lo faccio non c'era scusate non c'era molto da sistemare quindi ho sistemato subito ragazzi ora si devono sistemare solo loro ragazzi io mi sono sistemata mi mancavano le valigio cattolo scusate ragazzi non ho più la racchetta in mano perché le lol mi hanno ritagliato la racchetta e me l'hanno tolta da mano quelle brutte loline brutte lollastre scusate si ha detto scusate scusate si ha detto brutte le lol solo che però le lol non sono brutte sono molto carine diceva brutte dal carattere no non brutte dall'aspetto poi sono carini in realtà è vero non diceva brutte dall'aspetto ha ragione francesca piccoline avete ragione tutte quante anche se però a volte si le lol possono fare dispetti però poi si pentono di quello che hanno fatto si pentono di quello che hanno fatto non mentono mai quindi sono molto sincere non sono brutte di carattere comunque visto che la casa è sistemata io posso entrare ma non stava parlando della casa non stavamo parlando della casa scusate ancora stavamo parlando del carattere delle lol sono molto sincera fidatevi come sto con questo vestito bene anche se non te l'avevamo chiesto e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciatemi un like e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche seguitemi anche su tik tok con il profilo di mary 29 lol scusate su instagram con il profilo di messaggio e messaggi in un basso bovati 19 ciao